A D'Aversa siamo giunti alla sesta corsa, premio Emirates, miglio per anziani di categoria G, non corre Vieri Denigrif, 14 concorrenti al via, prima fila per Armando Ido, Ubi Jet, Curzio Jet, Caffè Grieco Izzetta, Aglioppi e Minzanto, seconda per Boris Dio, Casper Grif, Casper SSM, Cowboy Clemar, Bacica Lupo Font, terza per Ana Bipan, Clinton RG e Zampillo Jet. Aglioppi attacca quelli all'interno, cerca di sopravanzarli, c'è l'inserimento di Curzio Jet, i due scavalcano Ubi Jet, squalificato Caffè Grieco Izzetta, Curzio Jet davanti, Ubi Jet in seconda posizione, Aglioppi a largo. Terza ruota per Clinton RG, 14.9, 200 iniziali, quelli in terza ruota è Bacica Lupo Font, che adesso si adegua all'esterno, c'è un tentativo di Cowboy Clemar in terza ruota, 29.5 il quarto iniziale, Cowboy Clemar rimane in terza ruota, Bacica Lupo Font si adegua ai lati di Curzio Jet, primi 600 metri in 45.5, Curzio Ubi Jet a largo Bacica Lupo, seconda pariglia per Aglioppi, terza posizione alla corda per Armando Ido, terza pariglia esterna per Casper Griff. Grif, primo giro in 1.1, si viaggia a media di 1.15, frazione piuttosto comoda in curva, dalle retrovie piazza lo spunto Casper Griff, 17.5 il chilometro, Casper Griff aggira diversi concorrenti e prova l'aggancio ai primi che però stanno cambiando marcia, ai tre quarti di miglio su di una linea, Curzio Jet, Bacica Lupo e Casper, 1.32, 3, tre quarti di miglio, Bacica Lupo impegna severamente, Curzio Jet con Casper Griff in terza ruota, la rottura di Ubi Jet, retta d'arrivo, Bacica Lupo sembra poter passare su Curzio Jet, Casper Griff a largo, interviene anche il numero sette, Boris Dio va a vincere probabilmente Bacica Lupo-Font nei confronti di Boris Dio e Casper Griff. Dovrebbe essere Bacica Lupo ad aver mantenuto un leggero vantaggio su Boris Dio che è scattato fortissimo a centropista, è probabilmente proprio così, Bacica Lupo, Boris Dio e per il terzo forse Casper Griff, 2-1. media che dovrebbe agirarsi intorno all'1.15 per Bacica Lupo-Font che ritorna al successo nelle mani di Mario Minopoli Junior per i colori del signor Angelo Simioli e il training di Vincenzo Minopoli.